E apre la stagione degli eventi del trading è il primo di ottobre, venerdì, l'appuntamento è a Taranto per il Taranto Finanza Forum, collegato con noi Emanuele Di Palma, della BCC di San Marzano. Emanuele, mi senti? Sì. Buongiorno a te. Buongiorno a voi. Allora, quali i motivi per raggiungere Taranto venerdì? I motivi sono tanti, innanzitutto perché il tempo è buono e questo è già un motivo. In secondo luogo perché ci sarà un grande evento, avremo oltre 300 appassionati di trading che insieme con una quarantina di esperti a livello nazionale e internazionale affronteranno i temi sia del mercato attuale sia in generale del trading a Taranto. Ecco, sappiamo poi che accanto a questo ci saranno anche una serie di tavole di economia e di finanza, quindi potrebbero essere interessati anche i potenziali investitori all'evento. Assolutamente sì, avremo esponenti della finanza islamica, avremo amici dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra per poter esaminare insieme le opportunità di sviluppo del nostro territorio, le possibilità di investimento nella nostra provincia, nella nostra regione che da un po' di tempo viene considerata molto appetibile da un punto di vista degli investimenti. Ecco, torniamo al trading. L'evento quanto dura e come si fa per iscriversi? L'evento dura tutta la giornata, ci si iscrive online al sito apposito del taratofinanzaforum.it, ma ovviamente per chi invece in zona potrà tranquillamente venire nella location specifica che è quella dell'Isto, una bellissima masseria del Settecento sul mare a Taranto, e partecipare alla giornata dei lavori scegliendo nelle varie sale quali sono gli argomenti di suo maggiore interesse. Ecco, il mercato in tempo reale intanto si vedrà o no? Come è stato organizzato? Assolutamente sì, il mercato si vedrà in tempo reale e ci saranno i commenti, ci saranno anche trading che in tempo reale, non simulando, ma effettivamente con denaro vero, opereranno sui mercati per dare la sensazione effettiva di come si opera sui mercati, di come si fa trading. Ecco, questo è un ultimo aspetto che mi interessava approfondire con te, e cioè vedere questi grandi del trading, questi iperprofessionisti, però molto spesso si ha la sensazione di vedere come Maradona, però poi è difficile replicare, ci sarà modo anche di imparare qualcosa? Assolutamente sì, i nostri esperti hanno proprio questo scopo, quello di insegnare agli appassionati, agli operatori quali sono le regole fondamentali. Poi mi rendo conto che è difficile in una giornata, diciamo sì, catturare i segreti e l'operatività, però almeno qualcosa dovrebbero lasciarlo, diciamo sì. Almeno qualcosa rimarrà, e sicuramente rimarrà la sensazione che non è un gioco, ma è un lavoro, un lavoro serio che merita grandi approfondimenti, e il Taranto Finanzio Forum vuol fare proprio questo, cioè spiegare agli operatori, ai giovani anche che operano su questi mercati, che si tratta di qualcosa di serio, di qualcosa che va approfondito, va studiato in tutte le maniere. Ecco, un'ultima cosa che depone a vostro favore, invece l'evento è completamente gratuito, esatto? Assolutamente sì, perché è un evento divulgativo, noi vogliamo portare anche su questo territorio, siamo già al quarto anno, alla quarta edizione, questa cultura che ci sembra qualcosa di veramente importante. Grazie, grazie a te, grazie. Allora, appuntamento a Taranto il primo di ottobre, venerdì.